Attraversa sulle strisce in viale Diaz a Bassano, ma un ciclomotore non rispetta la fila e la investe. È accaduta una bassanese che non ha neppure ricevuto le cure del suo investitore. Lo scooter infatti si è dileguato nel traffico dopo l'incidente. La donna si è rivolta al corpo di polizia locale del bassanese prima di andare in pronto soccorso. Gli agenti hanno effettuato tutte le verifiche del caso risalendo al conducente e al passeggero dello scooter. Si tratta di due ragazzini che saranno segnalati al Tribunale dei Minori.